Buonasera, è un piacere avere con noi nella giornata delle malattie rare di fronte alla bellissima arena di Verona il professor Girelli per l'Erna Eurobloodnet che ci presenterà l'unità operativa di Verona. La nostra unità operativa è di medicina generale, medicina d'urgenza, ma l'Eurobloodnet per le malattie rare ematologiche coinvolge anche altre unità operative dell'azienda ospedaliera universitaria integrata, il servizio trasfusionale qui rappresentato dal dottor Giorgio Gandini, l'oncoematologia pediatrica, l'ematologia diretta dal professor Crampera e anche la medicina interna del professor Oliviero Olivieri. Ci occupiamo di malattie rare ematologiche, disordini del metabolismo del ferro, disordini della coagulazione, in particolare l'emofilia, anemie congenite, talassemia e anemia falciforme e altre condizioni rare. Il nostro impegno è per questi malati affetti da queste condizioni rare e crediamo che iniziative come questa siano importantissime per mantenere elevato il livello di attenzione per queste patologie, per i malati, per i loro familiari. È un piacere infatti avere Verona all'interno delle reti europee di riferimento per le malattie rare.